E' cambiato tanto, sai, è cambiato, sì, che poi non abbiamo visto. Sicuramente in dieci anni non ci saranno più pescati da Stavelletto. Negli progetti, diciamo, dovrassi investire in un resort. Cioè la gente si ferma a quello che si vede sul momento, non riesce a capire che cosa c'è dietro o in prospettiva. Ci ha dato tanto valore questo posto. Grazie. 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 Grazie.